Ciao amici sono... Hai la cicca? Non importa non sei a squadra, hai ingoi? Ma sei scemo? Io ingoio, io ingoio Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, io sono con Dateco Oggi giocheremo un gioco simpaticissimo che si gioca in due Per quello ce l'ho perché io in realtà gli amici li sfrutto per fare i gameplay Se no poi torni a casa Allora si chiama Giraffe's Volleyball Io ti spiego in realtà questo è un gioco dove devi giocare a palla a volo con delle giraffe Per quello ti invito perché si può giocare solo su un computer nella stessa stanza, capito? Comunque sono bellissime Ti piace, le giraffe hanno un design incredibile Tu sei... Ma sei scemo? Non abbiamo visto i tasti porca... Ma niente Ma non abbiamo visto i tasti Io uso le freccette, guarda Non si muove la mia, non vale Aspetta un attimo Vincco io No, Lore, Lore Hai fatto punto tu e stai fermo Ma cosa? Aspetta Questi tasti Aspetta Devi fare esatto No Ma per perché si allunga le gambe? Ma io ho i tasti troppo distanti Aspetta aspetta Non lo so ma funziona Non lo so ma funziona Voglio abbassarti Io come mi abbasso? Jay qualcosa Ma aspetta un attimo Non abbiamo fatto un cazzo Non abbiamo fatto un cazzo Io con la G di nuovo Con la I con la V ci si alza a caso Ok ho capito Ok ho capito Ho capito i tasti E... No, oh, no Come? Sì! No! La presa! Sì, 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 vai È difficilissimo E non dirlo a me Porca vacca È un casino Come faccio? Ci sono anch'io nel gioco Aspetta aspetta No, no, no Sì! No! Sì! Sì! No! Sì! L'ho presa! L'ho presa! Che culo Pro gaming Oh! Finta! Nooo! Ho fatto la finta No raga non avete idea È difficilissimo Ho dei problemi Eh quello si notava Oh! Oh! L'ho presa! L'ho presa! Ho preso i tasti! Sì! Sì! Mamma mia! Allora aspetta che qua la partita si fa difficile Mi devo cominciare Vai vai Fammi spazio non trovi tasti Il peggio video No 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 Dai non vale così Sotto gamba zio Ma tu come fai ad essere così veloce? Perché io sono velocissimo Io ancora non ho capito velocissimo Aia! No! Sì! Mamma mia che mu... Questo è un muro L'hai visto con le mani alzate quando è forte? Già la possiamo fare raga eh È difficilissimo ma ce la si può fare Mi ho notato No! Eh! Ancora non ho capito mito No 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 Sto studiando Ma perché giochi a un centimetro Hai vinto? Ho vinto 5 a qua grazie Adesso c'hai tu La testa Sì però la barra è la... Alza la mia testa È la mia testa E ce ne so Oh! Aspetta un attimo! Non vale! Sono zorro È di una comodità veramente oprobriosa Oh! Dai non mi non posso alzare la testa Non posso io Ma non posso Non vale! Come si alza la testa? Belli comodi tasti Sto giocando Tasti più comodi Oddio È difficile Io guarda io ho quattro tasti in un centimetro Non ce la farò mai Aspetta Vetti più avanti No avanti Tira Eh! Madonna Ronaldinho Dov'è finita? No! Giocata della vita Aspetta che qua... No attenzione No! Sono scemo! Olimpiadi complimenti Ronaldinho Questo si chiama karma Perdonami Aspetta un attimo Eh non so non capisco i tasti ragazzi Mamma mia hai visto? Dopo di questa Non ho visto Vai che perdi la palla Oh! Dove l'hai mandata? Non ci credo No no! Che cura Che cura incredibile Ma dove? Andiamo avanti Un punto alla volta Si no vedi che avevo due mongoplettici E Ci sei? No no Gioca dalla mia parte bravissimo Dall'altra parte Dall'altra Grazie No! Madonna che nervoso maledetto 4 a 4 match point Match point Dalla vittoria raga Guarda come riesco a perdere Malissimo Ma no si Non vale Si Non vale Non vale Sei proprio Sei una persona lercia Già non riuscivo io Ci manca solo che mi metti le mani Ma nessuno ha visto niente Magari se mi lasci un po' di spazio sulla tastiera Io Gioco anch'io Allora io ho G-I-E Ma come? C'è un muro finto Come? Ma no Che stavo riuscendo Ma meno male Quando vuoi Eccola Noo Oh Oh Noo 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 Abbiamo chiuso la partita Noo Questo vale 5 punti va Tutti e 5 Addirittura Tutti e 5 punti Ultima volta ho fatto un gioco così bello eh Raga lo so che siete tutti emozionati Guarda che testata No No Madonna l'hanno vista anche in Tibet L'hanno vista eh Una mia giraffa Che si allunga Ah Il collo Oh guarda che bello Noo Noo Uno che lo puppa Sei tu Alla meno un punto devo farlo Non è Mecchia l'ho mandata Si vabbè dai Bravo Eh la parte sbagliata Noo Ma dove può L'ultima partita raga Questa è la vittoria Dai 5 a 0 e tanta roba Tanto perdi Boom Vabbè dai Quanto in alto No 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 Dicchè un cannone Ma trasparo io e su Marte Prendila Dai Ti sfido Complimenti Pensavo che cadesse nell'altra parte di campo Ero già lì pronto a godere No No Non ci arriva Non ci arriva Non ci arriva No 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 Si 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 Ma cosa cazzo hai fatto Ma com'è possibile C'era due raga Gli ultimi tre punti più sudati della vita Madonna Partita giocatissima Basta Non ci arriva Guarda che non ci arriva Guarda che non ci arriva No Quanto sei scarso Prontai vince Non vincerai tu Vai si Noo Ah, col quattro, lo senti come brucia Madonna, eh, va beh, va beh, ma sei scarsissimo Madonna, no, 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 siiii, tre e quattro, c'è ancora speranza, due punti Ma tu vai come prima, quattro a quattro e poi perdi No, 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 no Guarda, i tassi, non va, non sono molti C'era il microfono di mezzo Certo, il microfono, no, no, aspetta Ultimo punto, ultimo punto Dove l'hai mandata? Dove? 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 Sei una merda Giochiamo ancora Raga non avete idea dei tasti Voi non ce l'avete E' impossibile Vabbè ragazzi speriamo che il video vi sia piaciuto E' un gioco intelligente finalmente Visto che lo chiedevate da tanto tempo Grazie a Echo per aver partecipato a questo video Trovate sul canale nella descrizione Ciao a tutti ragazzi se vi è piaciuto un commento mi piace Anche i vari social con il video Se vi iscrivetevi e ci vediamo nel prossimo video Sei riuscito a farlo Hai visto? Anche tu Bella ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti